Buona visione da Buonasera a tutti E finalmente è arrivato il giorno A Melbourne la Ferrari Vince la sua prima gara stagionale Ma anche la sua prima doppietta Da due anni a questa parte Uno straordinario Carlos Sainz conquista il Gran Premio Da Australia davanti al suo compagno Charles Clark che sigla il giro più veloce Molto bene anche le McLaren Terzo con Norris, quarto con Piastri Max invece è costretto al ritiro Per un problema al freno destro o posteriore Mentre Perez chiude in quinta posizione Andiamo a vedere le classifiche Come di consueto partiamo Con quella Piloti Un Charles Clark che si porta molto vicino al leader Max Verstappen aiutato naturalmente Dal suo ritiro Mentre in quella Costruttori Grazie ai 44 punti conquistati dalla Ferrari Si fa sotto alla Red Bull Anche qua di 4 punti Andiamo come di consueto A dare il benvenuto ai nostri ospiti Ritorna in studio Finalmente Quindi oltre che la Ferrari abbiamo in studio Il nostro pilota ha vinto in tante categorie Formula 3 2000-3000 nell'European Aleman Series Nella NASCAR Davide Amaduzzi Ciao Davide benvenuto Ciao a tutti Ciao Veronique grazie Di direttore ce n'è uno solo E' quello di motorsport.com Franco Nunez Ciao Franco benvenuto Buonasera Veronique Ti vedo bella sorridente Hai visto Hai visto Ha vinto finalmente la Ferrari Aspettavamo no? Questo giorno ed è arrivato In collegamento Se seguite e seguite Il podcast Full Gas Il suo ideatore e conduttore Fabrizio Monaco Ciao Fabrizio Benvenuto Ciao Veronique Buonasera a tutti E ben trovati a tutti gli ospiti A fianco a lui il giornalista di Autosprint Matteo Novembrini Ciao Matteo Benvenuto anche a te Ciao Veronique Grazie Buonasera a tutti Grazie a tutti di essere con noi Grazie anche a voi Di seguirci da casa Come di consueto E questa volta ne abbiamo tutte le Insomma Tutte le motivazioni Partiamo da una Ferrari Una grande prestazione della Ferrari Un ottimo lavoro Non hanno sbagliato niente In un clima assolutamente tranquillo E questo bisogna dare grandi meriti A Frederic Vassoro Una monoposto Che non solo è stata veloce Ma anche solida Affidabile E competitiva In tutto il weekend Franco direi Segnali positivi Speriamo non siano Segnali soltanto Per un episodio solitario Ma che possa essere L'inizio di un campionato Cosa ne pensi? Penso che Il messaggio che Vassoro Aveva mandato Prima del Gran Premio Sia stato la chiave Di volta Di questa doppietta Parlando di una Ferrari Che doveva essere Assolutamente aggressiva Se ti ricordi Io ho giudicato Non bene Jedda Dove comunque Era arrivato Un risultato positivo Con un podio Perché per me C'era una Ferrari Troppo difensivistica Con la paura Di sbagliare Ecco Io credo Che sia intervenuto Fred E abbia messo Tranquillità A tutti quanti Dicendo Proviamo a usare Su una pista Dove E poi è emerso Grazie alle scelte Di gomma Della Pirelli Un po' Di graining C'è una Ferrari Che consuma Questa è la grande notizia Le gomme Meno della Red Bull E al di là Della rottura Che Max ha avuto Con un problema Ai freni Poi casomai Ne parleremo Io credo Che Sainz Sarebbe stato Imprendibile Anche per Max Verstappen E questa Secondo me È la chiave Che arriva Dalla terza gara Che deve dare Un indirizzo Alla stagione Che non vuol dire La Ferrari Adesso diventa Pretendente del Mondiale Siamo comunque Nei due campionati A quattro punti Per chi il Mondiale Lo guida Però C'è un'apertura Perché c'è anche Una McLaren Che sta arrivando Che non è lontanissima Dalla Ferrari Quindi Una possibilità Di creare Uno scenario Dove non c'è Un solo nome Certo E magari giocarsela Durante la stagione Anche con gli aggiornamenti Forse diventeranno Importanti anche quelli Durante l'arco Del campionato Stando alle chiacchere Stanno cercando Di anticipare I tempi E portare già in Giappone Qualcosa di nuovo Della Ferrari Quindi Perché poi dopo Ci sono due gare Con la gara sprint E con un solo turno Di prove libere Non avrebbe senso Dopo arriva Imola E ci sarà una Ferrari nuova Con pance Completamente diverse Diciamo che cambia faccia Fanno bene A provare A cercare A provare Quello che insomma Anche l'anno scorso Tu dicevi Anticipiamo Non aspettiamo sempre La gara perfetta Per fare degli aggiornamenti E per provarli Prima li provi E meglio Io credo che Vassor Questa mentalità Ce l'abbia La Ferrari Era un po' ancorata A un qualcosa Che doveva essere Provata in galleria Deliberata Sicuramente deve funzionare Due torni di prove libere Incrocio fra i piloti Credo che Vassor Abbiamo cominciato a dire Ragazzi Se vogliamo prenderli Dobbiamo essere più rapidi Rispetto a loro Nelle reazioni E magari Anticipare qualcosa Mette in contropiede La Red Bull Che si sarà programmata Degli sviluppi Contando su una macchina Decisamente superiore Un Vassor Che ha rinforzato Rafforzato i settori Dato fiducia A tutti i suoi tecnici Sì Ed è interessante Un aspetto Sul podio E' andato Pluto A ritirare Il premio Del costruttore Pluto E' come viene chiamato Simpaticamente Dal muretto della Ferrari L'ingegner Tonignali Che è Il capo Della pista Dei tecnici Che è forse Quello che ogni tanto Tira un po' indietro Per essere sicuro Di non prendere strade A rischio Il fatto che sia stato Mandato sul podio Secondo me è un segnale Politico straordinario Cioè Ti do fiducia Sei parte della squadra E stabilizza la squadra In questa fase Dando grande motivazione Molto bene Davide Un episodio O una nuova era Secondo te Nuova era no Nel senso che Non ci si può aspettare Dal prossimo Gran Premio Che adesso la Ferrari Sia dominante O che sia stabilmente Davanti a Verstappen Sicuramente la Ferrari Quest'anno è migliorata Tantissimo Come approccio Tecnicamente Come scelte E la prima scelta Catastrofica Diciamo In senso positivo È stato Hamilton a febbraio Sono tutte scelte Molto potenti Molto grandi Che indicano La voglia Di un cambiamento Netto Secco Rispetto al passato Un progetto Delle ambizioni Sì perché Comunque anche L'Hamilton Stesso Non è fine a se stesso Al pilota Ma anche collegato A altre situazioni Però io Non mi aspetto A Suzuka Una Ferrari Dominante O subito a ridosso Di Verstappen Non dico neanche più Red Bull Certo Perché comunque È Verstappen L'unico fastidio Per la rossa Io ho riguardato Il Gran Premio La prima parte E Non si Io personalmente Non posso dire Che Sainz Avrebbe dominato O Che Max Avrebbe Ugualmente vinto Se non ci fosse stato Il ritiro Faccio fatica Soprattutto vedendo La gara di Perez Che ha preso un minuto E quindi se guardi quella Ti viene da dire Ok sicuramente La Ferrari avrebbe vinto Che lui anche lui però Ha detto che ha avuto Dei problemi La mascherina La visiera sotto il fondo Che gli ha fatto perdere 20 punti Vabbè Quello sai Sono quelle cose Che secondo me A volte si dicono Anche per non creare Abbiamo sempre anche detto Che col secco in mano Non si fa la storia Esattamente Però io ho riguardato L'inizio del Gran Premio E Verstappen Si è ritirato al quarto giro Ed era sempre sotto Al posteriore Della macchina di Sainz Con il problema Quindi mi viene da dire Che almeno Nella primissima fase di gara Verstappen Comunque aveva il potenziale Per passare Sainz Detto questo Però Mi riaggancio A quello che diceva Prima Franco Il graining della Ferrari Era inferiore Quindi alla lunga della gara Probabilmente Sainz Avrebbe potuto Riprendere vantaggio Però io faccio fatica A dire Avrebbe vinto Sainz Lo stesso Sicuramente È un'altra Ferrari 100% Volevi aggiungere qualcosa Franco Sono totalmente d'accordo Io credo che Gli sarebbe comunque Venuta la lingua lunga Anche a passare Alla Ferrari Perché Era veloce Era veloce Aveva tutti connotati Fabrizio Fabrizio come hai visto Senti Fred Osiamo la prossima gara Questo lo sa soltanto Soltanto Franco Soltanto Franco Lo sa Io Ma Sicuramente abbiamo visto Un atteggiamento Un po' diverso Da parte di Ferrari Mi accodo A quello che diceva Davide Riguardo La possibile vittoria Di Verstappen Se fosse stato in grado In realtà Il riferimento Sul vero passo gara Di Verstappen Non l'abbiamo avuto Perché il problema Con il freno Ce l'ha avuto Fin dalla partenza Quindi è stato condizionato Pesantemente Da questo evento Segno comunque Che Qualcosa Di sbagliato Intanto succede Anche in casa Red Bull Poi Non ho ben capito Quale fosse la natura Di quel problema Ma Mi sembra il capito Che fosse un errore umano Sostanzialmente Detto questo La Ferrari Ha fatto quello Che ci si aspettava Cioè mettersi davanti E È stato Come dire Leclerc Un po' in difficoltà Ma Lo è stato per tutto Il weekend E Ancora una volta La SF24 È vero che avevamo detto Che probabilmente Si sarebbe adattata Più Alle caratteristiche Di guida di Leclerc Ma intanto Sainz Ha vinto Il primo gran premio Della stagione Leclerc ha avuto Non poche difficoltà Soprattutto poi In qualifica Dove non si è espresso Al meglio Ferrari più aggressiva E io spero sempre Sono estremamente ottimista Spero sempre Che entrambe le macchine Riusciranno a collocarsi Tra Verstappen e Perez In modo tale Da magari poter Lottare per il titolo Costruttori Certo Grazie Fabrizio Matteo Qual è la tua visione Di questa gara Della Ferrari Anche in prospettiva futura Io sono in linea Con quanto è stato detto Finora È stata un'ottima Ferrari Il passo di Verstappen Non si è potuto vedere In prospettiva futura Da speranza Chiaramente Poi di qui a dire Che possa essere Una Ferrari Capace di lottare Per il titolo Aspettiamo Non credo Sarà così Però Si porta a casa Tante note positive Aggiungo Oltre a quello Che hanno già detto Le persone Che hanno parlato Prima di me Il discorso Che la Ferrari Sin da subito Si è trovata bene Sulla pista di Melbourne Forse Ancora una volta Ha dimostrato Che i modelli simulativi Di Maranello Sono molto Positivi Ha interpretato Meglio Sin da subito Una pista Che è stata Rispetto A quanto si potesse Pensare Alla vigilia Più aggressiva Sul fronte delle gomme A partire dal Graining Il degrado Erano state Due edizioni Nel Gran Premio D'Australia Dove si copriva Facilmente La gara Con una sola sosta Mentre Stavolta Ne sono servite due E in tanti Hanno avuto più problemi Per cui Io punterei L'accento Sulla preparazione A casa Ricordando Che Sainz Era impossibilitato A sfruttare Il simulatore Proprio per i problemi Legati all'appendicite Quindi è stata Una trasferta Trasferta Molto Positiva In ottica futura Vediamo Diranno tanto I futuri aggiornamenti Sarebbe importante Anticiparli in Giappone Per Ferrari Ma anche per tutti gli altri Proprio per il discorso Che poi In Cina Ci sarà La sprint Quindi sarà meno tempo Per provare Quindi vediamo Un'ottima Un'ottima notizia Poi di qui a dire Che sarà Un avversario Per la Red Bull In tutte le piste In tutte le gare Aspetterei Certo Bene Lui ha già Introdotto Il discorso Non sappiamo Se la Ferrari Oppure non sarà Competitiva Per il mondiale Io franco ti chiedo Quali saranno Secondo te invece Gli obiettivi minimi Per la Ferrari Sia nel mondiale Piloti Che quello Costruttori Vincere il mondiale Costruttori D'accordo L'obiettivo del marchio Per dare un segno Di cambiamento Importante Deve essere Assolutamente Quello Prendere tutte le occasioni Che capitano Per vincere una gara E poi giocarsela Cioè le situazioni Cambiano In Formula 1 Poi la rapidità Con cui Le evoluzioni Possono cambiare Gli scenari Sono veramente tante Poi ci sono Aspetti psicologici Devo dire Che il mondo Red Bull Si spara In bocca Finché hanno Le porte chiuse Poi quando Escono All'aperto Sembra che Non sia mai Successo niente E continuano A fare cose Straordinarie Fabrizio però Ha fatto una domanda Alla quale Poi ha anche risposto Se il problema Di Verstappen Poi il discorso Red Bull Lo faremo anche dopo Però visto che L'ha già anticipato Se è stato Un problema O un errore umano Allora È molto probabilmente Un errore umano Nel deliberare la macchina Sull'impianto frenante Che ha condizionato La parte Il sistema posteriore Di frenata La parte idraulica Per cui la pinza Rimaneva sempre Pinzata Le pastiglie Pinzavano il disco In continuazione Era come se avesse Il freno a mano tirato Ed era inevitabile Che si rompesse tutto Quindi ha fatto Quattro giri Con il freno Ma come se avesse Il freno a mano tirato Posso dire Non c'entrava niente L'impianto Brembo Come tutti hanno cominciato a dire Ecco Sono passati Perché hanno Scelto Anche i dischi Brembo Oltre alle pinze Quest'anno Quelli della Red Bull Su scelta Spinta Da Max Verstappen Che ha visto Una netta differenza Nel bite Della prima parte Della frenata E infatti Da quello che mi risulta Max Al di là Della rabbiatura Ma io mi immaginavo Il ritiro Dopo 43 gare Appunti Maggiore sceneggiata Invece Mi hanno detto Che è stato calmissimo E ha capito Bene Davide Parliamo Di due piloti Ferrari Partiamo da Sainz Ovviamente Grande vincitore Una gara magistrale Un weekend Insomma Sappiamo le condizioni In cui versava Dopo un'operazione All'appendicite Cuore e testa E una maturità Penso del pilota A 360 gradi Adesso Io Sainz L'ho visto Super Ancora prima Del primo Gran Premio Dopo L'annuncio Dell'arrivo di Hamilton È passato qualche giorno E poi Quando Sainz Si è fatto vivo Diciamo così Si è fatto vivo In una maniera Molto pulita Molto chiara Molto sportiva E io in quel momento Lì ho detto Saranno cavoli Per l'Eclerc Quest'anno Perché C'erano due Due vie Poteva crollare E allora Avrebbe avuto Una stagione Difficilissima O poteva E ricordiamoci Che è figlio Di Carlo Sainz Un altro Che attributi Ne ha da vendere O poteva Prendere la via Che ha preso Della serie Adesso ti faccio vedere Che cosa valgo Secondo me Sarà così Tutta la stagione Ha fatto Non solo una super gara Ricordiamoci Che Delle tre gare fatte Lui è sempre stato Il migliore Perché una Non l'ha corsa Anche il primo Gran Premio È rimasto davanti A Leclerc Tutto il weekend Quindi È una situazione Che secondo me Comincia A diventare Leggermente Imbarazzante Per Leclerc Non per la Ferrari Perché tutte le chiacchiere Che adesso Cominciano ad arrivare È stato mandato via Il pilota sbagliato No La Ferrari Tre macchine Non le poteva avere Ha avuto l'opportunità Di prendere Hamilton Ha fatto la scelta giusta Per altre Per una visione Differente Però Però Nella Nella stagione In corso Io mi aspetto Un super Leclerc Fino all'ultimo Gran Premio Scuso Un super Sainz Sainz Sì 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 Ok E Matteo Come ti è sembrato Questo Sainz Mi è sembrato Tanta tanta roba Perché veniva Da un'operazione Senza allenamento Con ancora un cerotto In pancia È sembrato perfetto Se non avessimo saputo Che era stato operato Nessuno avrebbe mai immaginato Che veniva Da un'operazione Di 15 giorni prima Ce l'ha fatto anche vedere Insieme A noi Sì esatto Lo ha sbandierato Con il doggio Esatto così Tutti ci credono La cosa che mi sembra Sarò breve La cosa che mi sembra interessante È dire che In una macchina Stavolta più forte All'anteriore Più sovrasterzante Che era quello che in teoria Piace più alle clerche Sainz si sta trovando Comunque bene Quindi forse a volte Il discorso Macchina sovrasterzante Sottosterzante È più una fissa Nostra O comunque Dell'esterno Piuttosto che dei piloti Perché non è detto Che una macchina Sovrasterzante Sottosterzante Dia sempre Le stesse sensazioni Anche se c'è Quella tendenza Lì Questo secondo me È un altro punto Importante Sainz lo sta dimostrando Certo Davide volevi intervenire Anche sull'ultima frase Che ha detto Matteo Io volevo anche dire Visto che sei un pilota Ho l'impressione Che Sainz Domenica Abbia gestito Nel senso Che secondo me Il gap Con le clerche Ma anche con la McLaren Indietro Sarebbe stato Molto più ampio Se ne avesse avuto La necessità Io ho avuto l'impressione Che dal secondo Terzo Cioè dal quinto Sesto giro Sainz Abbia Chiaramente Avuto L'idea La percezione Di avere Tutto Completamente Sotto controllo E quindi forse Questo Lo ha aiutato Un pelino Anche a gestire La sua condizione fisica Che sicuramente Non era eccezionale L'abbiamo visto Quando è sceso dalla macchina Ha fatto un po' fatica Sul podio Non riusciva neanche Troppo A fare A festeggiare A festeggiare Ovviamente Questo forse è stato Un po' Una fortuna Da parte sua Ma una grande forza Una fortuna Dettata Arrivata Da una condizione Di superiorità Max a parte Superiorità assoluta Certo Sul discorso Sotto sterzante Sovra sterzante Come Come da pilota Cioè Più una nostra impressione Di cui parliamo Spesso Che uno preferisca Una cosa Piuttosto che l'altra È vero Che ci sono dei piloti Che preferiscono una macchina Un po' più puntata Davanti Quindi tendenzialmente Poi diventa Sovra sterzante E pilota E pilota che la preferiscono Più stabile Sul posteriore Tendenzialmente Diventa Sotto sterzante Ma la realtà È che il pilota Cerca la macchina Bilanciata Ok Non è Non è Una È la caratteristica Che viene avanti Quando la gomma Va in consumo E È una realtà Ma in questo momento Io non vedo Questa enorme differenza Tra i due piloti Ferrari A livello di stili Di stili In questa In questo momento Della stagione La Ferrari è buona È buona come macchina Beh l'ha dimostrato anche Berman Salendoci su Due settimane fa Franco Ne aggiungo un pezzettino Perché secondo me Bisogna tornare al sabato E la Ferrari Era più competitiva Della Red Bull Sul giro secco Quindi avrebbe dovuto Conquistare la pole position Sia Carlos Impacchettato Per l'operazione Che di più Leclerc Hanno commesso Piccoli Grandi errori Che hanno permesso A un grandissimo Max Verstappen Di prendersi La pole position Questo per fotografare Poi Nel delineare Uno scenario Abbastanza reale Quindi Max ci ha messo Del suo Per mettere la macchina Davanti Però la Ferrari Era meglio In Australia Che problema ha avuto Leclerc Leclerc Lo abbiamo Pesantemente Criticato Negli anni scorsi Dicendo che Doveva avere Il libero pensiero Quando era in macchina Che era torpo Teleguidato dal muretto E devo dire Che ha dato Un segnale di vita Ma ha esagerato Perché Fra la Q2 E la Q3 Ha chiesto una modifica Io adesso Non so esattamente Cinque click Di ala Quanto grado Corrispondono effettivamente Quanto grado È di ala Però è un numero Modifica Ma non è poco È tanto Mi sembra Una esagerazione Rispetto al Dove era la macchina E questo per cosa Per ricercare Questa performance In Q3 Sì Lui voleva Metterci del suo Com'è capace di fare No Da tendenziale Fuoriclasse E poi Ha un difetto Che è il suo unico Vero grande difetto Che È tentato Ad andare Overdrive Cioè Oltre Il limite Della macchina Se Avesse fatto Dico un giro Normale Ma è una bestemmia In Formula 1 Cioè Che avesse limitato L'aggressività Non andare oltre Il limite Della macchina Io sono sicuro Che avrebbe fatto La pole position E allora Cambia completamente Il weekend Assolutamente Non deve anticipare Il primo pit stop Non deve gestire Le gomme Negli altri due stint Lui l'ha persa La gara l'ha persa In qualifica Certo Noi andiamo in pubblicità Ci vediamo tra pochissimo Rieccoci nuovamente In studio Fabrizio Vengo da te Ti chiedo Anche per te Come hanno risposto In studio Qual è secondo te L'obiettivo minimo Quest'anno per la Ferrari Sia nel mondiale Pilotica Che in quello costruttori In un momento in cui Verstappen Non è in giornata O ha un problema O magari C'è un circuito Un pochino più favorevole Alla Ferrari Come può succedere Per esempio A Singapore Come è successo In Australia Anche se non abbiamo In un riferimento E con quello che stava E con quello che stava succedendo All'interno del team Red Bull Magari abbiamo più volte Detto che sarà Verstappen Si sposta Non si sposta Rimane lì Fa mercato Io ti chiedo Non è che Sarà Sainz A fare mercato E a dettare Gli spostamenti Nei vari team Nel momento in cui Firmerà per una squadra Sainz in questo momento È una pedina Del mercato Molto appetibile Perché comunque Si percepisce Che il suo momento di forma È clamoroso E sì Ti do ragione Sarà lui Secondo me A innescare Tutti quei movimenti Che poi Daranno luogo Al domino Del mercato Piloti Aggiungo Che secondo me Qualcuno Sta anche aspettando Che Sainz Prenda Una direzione Il fatto che lui Si definisca Ho letto anche Dei commenti Sui social Lui si definisce Un disoccupato Al momento E secondo me Sta cercando Anche di innescare Qualche meccanismo E sono tutti Un po' lì Alla finestra Il discorso Di Verstappen Che va via Da Red Bull C'è da chiedersi Perché Perché finché Continua ad avere La macchina più veloce E a vincere Campionati su campionati Possono esserci Qualsiasi tipo Di contrasto All'interno di Red Bull Ma perché Verstappen Vada via Deve succedere Un cataclisma In questo momento Imponderabile Certo Matteo Tu cosa ne pensi O ne sai qualcosa Sul mercato Ad esempio Di Science Ad Autosprint Girano Nomi Di team No I nomi Penso Li possano fare Tutti Credo che Con le porte Aperte In Red Bull Chiaramente La Red Bull In caso andasse Via Perez Per Science La Red Bull Sarebbe la prima scelta Altrimenti Restano sul piatto Mercedes S&S Aston Martin Questo Credo sia Abbastanza Scontato Poi Sullo sfondo Resta Audi Che secondo me Non è la prima scelta Di Science Magari mi spingo A dire questo Non credo sia la prima scelta Perché vorrebbe dire Prendere altro tempo Science Io credo sia Il nome più ambito Del mercato Perché con tutto rispetto Per Alonso Che è fortissimo Però ha anche Quasi 43 anni Science Ne va per i 30 Credo che Se uno voglia fare Un progetto Un pochino più lungo Anche a medio termine Di 2, 3, 4 stagioni Science Sia più appetibile Di Alonso Franco A Motorsport Cosa si dice? Ci sono delle indiscrezioni? Io ho parlato Con Papa Carlos Ovviamente Non mi ha detto Qual è la squadra La quale ambisce Però Padre e figlio Si sono dati Un mese di tempo Per chiudere un contratto Mentre tutte le squadre Hanno l'ansia Di allungare il tempo Non è il momento Adesso Di chiudere Le situazioni E probabilmente La mossa Di lui Sala Ferrari Ha un po' scombinato Quelli che potevano essere Le trattative in corso Per cui Dovremmo aspettare Hai ragione Quando dici Che probabilmente Carlos sarà Il pilota Che sblocca La situazione E ovviamente Lui adesso Da disoccupato La sta tirando lunga Per vedere Quale migliore offerta Ci possa essere Sono d'accordo Totalmente con Matteo Se l'Audi Era la pista Avrebbe già firmato Non appena Gli hanno detto La Ferrari Non ti tiene più Non ha le trattative Andare in Audi Per me Non ha È troppo vecchio Considera il progetto Non ancora maturo Esatto E siccome Nella fase sua Di maturità Prima che possa Cominciare Una curva Discendente Preferisce Giocarsi Una migliore Opportunità Audi che tra l'altro In settimana Ha comprato Tutte le quote Di Sauber Forse anche In maniera un po' Anticipata Rispetto a quello Che doveva essere La notizia Va detta diversa C'è un motivo Ah no È Sauber Che È il signor Rausing Il signor Tetrapack Che ha visto Qual era lo scenario Che si stava combinando In Audi E ha detto Per quanto mi riguarda Basta Tant'è che Io ci aggiungerei Un pezzettino Lui era un po' L'uomo garanzia Del blocco Sauber Che c'è oggi E Se vi ricordate C'era stata un'offerta Andretti Per acquistare la squadra E lui sarebbe rimasto Come socio di minoranza Come voleva rimanere Con Audi Le garanzie Che aveva chiesto Da Andretti Era che Il personale Il blocco del personale Doveva rimanere Quello In Svizzera E Andretti Ha detto No io Se più la squadra Me la faccio Come cavolo Para me E infatti Se ne è andato Qui Io ho la sensazione Che del blocco Sauber Qualcuno a questo punto Deciderà anche Di andarsene Di andarsene Vuoi che ti disegni Una forza a mercato? Sì Di solito le fai E ci prendi pure Io ho una Ho una visione Simile alla loro Ma non completamente Science può essere L'ago dalla bilancia Ma dopo La conferma Al 100% Di Verstappen Perché con l'arrivo Di Hamilton Che nessuno se l'aspettava La Ferrari Secondo me L'1% di possibilità Che Verstappen Vada via dalla Red Bull Adesso è considerata Scusami ma dove vada A questa Mercedes qui Non ci vada E mica pazzo Sono d'accordo Però i team Secondo me Aspettano a dire Forse non è vero Ti ho detto Poi Ammesso e non concesso Che comunque Max rimanga E mi auguro per lui Alla Red Bull Rimane il posto di Perez Che può essere vacante Science diventa Possibile in Red Bull Ma se non va in Red Bull E guarda Aston Chi mandi via in Aston Tutti dicono Che vogliono tenere Alonso Ma in realtà Stroll è il proprietario Quindi Alonso È pronto per andare via Se arriva Science Guardiamo la Mercedes Che non andrà in Mercedes Dopo quello che ha fatto domenica Non è detto Non è detto Perché Mercedes ha bisogno Se metterà Antonelli Nel 2026 in Formula 1 Di un traghettatore Di un pilota per un solo anno Alonso potrebbe essere Il pilota per un solo anno A meno che Non decidano Di Vederla in maniera Diversa Perché secondo me I Mercedes Non credono al 100% In Russell E secondo me Continuano a guardare Norris Potrebbero fare una follia Andare a cercare Di strappare Norris Alla McLaren Per portarselo in casa In attesa di Antonelli Ma al posto di Russell Dobbiamo prendere appunti Mi sto perdendo il filo Science Potrebbe tornare in McLaren Perché è adorato in McLaren Ci sono tante dinamiche Che secondo me Potrebbero veramente Sconvolgere tutto quanto Però se Science È il primo che firma Non va in McLaren Assolutamente È una porta chiusa Assolutamente Allora Leclerc Leclerc Cosa sta non girando Per Leclerc Se c'è qualcosa Che non sta girando Poi ti chiedo Hamilton Franco Che è stato preso In Ferrari Ovviamente È stato preso Per l'esperienza Ma anche per La capacità Di vincere i mondiali Perché non è che ha Solo esperienza Ha anche capacità È stato preso Solo per se stesso O secondo te Perché Ferrari Che scommette tanto E crede nel talento Di Leclerc Lo ha fatto fino Dalla Academy Per poi portarlo In Formula 1 Vede però Che manca qualcosa Al pilota E che forse Un Hamilton Potrà dare al pilota Qualcosa di più Io non credo Che ci sia bisogno Dell'arrivo di Hamilton Per far crescere Leclerc Perché allora ci troviamo Con un pilota Che è un mezzo pilota E non è così Per me Leclerc Deve maturare Nelle cose Che abbiamo detto prima Non andare nell'overdrive Farsi ogni tanto Condizionare Dal clima Che ha intorno Mi sembra che Science in questo Sia maturissimo Nel senso che Ha la capacità Di mandare i segnali Attraverso il padre La stampa spagnola Tutto quello Che vuole essere Perché se guardate I giornali Di questi ultimi Due giorni spagnoli È la Ferrari Ha sbagliato la scelta Cioè è un bombardamento Usciamo da questo clima Per me Leclerc Deve fare Quello che è capace Di fare Stare sereno E cercare di sfruttare Al massimo Le sue situazioni È il pilota Al quale hanno dato Un bordello di soldi Andrà a prendere pari Sull'ingaggio Con Lewis Hamilton Quindi viene trattato Come un sette volte Campione del mondo Parliamo più di Dieci milioni Di euro Quindi non di poca cosa No forse mi sbaglio E sono molti di più Potrebbero essere di più Sì Magari non è ancora matura Perché se poi Quindi in termini di tecnici Ma anche di grande promozione Ma pensa Avere un testimonial Che la Mercedes Ha preso E gli ha dato un calcio in culo Quando lui Non aspettava altro Che avere un ruolo Che era quello Diventare qualcosa Più che un ambasciatore Ecco La Ferrari Gli ha detto Ti do questo E ti pago anche Per quello che di marketing Saprai darci Sappiamo quanto è importante Oggi L'apparire In un certo mondo Lui Lewis Non parla Ma non parla solo Al mondo della Formula 1 Parla al jet set Parla al mondo dello spettacolo Quindi Al mondo della moda Quindi c'è un mondo Apertissimo Io credo che sia chiaro Lo scenario Fabrizio Ma allora Leclerc Dobbiamo considerarlo Un pilota maturo Secondo me E Deve migliorare Ovviamente E secondo me Quei 5 click Che abbiamo visto Nella modifica Dell'ala In qualifica Strizzano un po' L'occhio A quella parte Ancora insicura Nel senso Quello è stato Come Nel football americano C'è l'ave-mary-pass C'è il passaggio Dell'ave-maria L'ultimo tentativo Disperato 5 click È veramente Una misura Estrema E per cui Secondo me Deve Lo vedo un po' Nervoso In questo momento Che sta mascherando Anche poi Quando nel finale Di gara Ha affiancato Sainz Andato a complimentarsi Per carità Sono complimenti Assolutamente sinceri Ma nel suo viso Non leggevo Un'espressione Proprio rilassata Non perché Non avesse vinto lui Ma il come È arrivata Questa Non vittoria Poi ovviamente Ha detto che Basta che vinciono Ferrari Siamo sempre Tutti d'accordo La presenza Di Hamilton In Ferrari Dal 2025 Sarà uno stimolo Nel senso che Comunque Vorrà far vedere Che non è Inferiore A un sette volte Campione del mondo Però Non credo che Hamilton Avrà quella figura Di coach Implicito Nei confronti Di Leclerc Non come quella Che poteva avere Vettel a suo tempo No No totalmente Totalmente diverso Totalmente diverso Parliamo anche di due Epoche storiche Differenti Tutto sommato Sono passati pochi anni Ma Leclerc in questo frangente È cresciuto Immensamente Matteo Allora Riparto dall'esempio Di Vettel Io credo che Quando Leclerc Si ritrova Vettel Ha 22 anni E può vedere In Sebastian Un maestro Ora di anni Ne ha quasi 27 Non può vedere In Hamilton Un maestro Perché all'epoca Se avesse perso Il confronto con Vettel Comunque avrebbe detto È la mia seconda stagione Ho 22 anni Lui è un quattro volte Campione del mondo Ci può stare perdere Ora non può dirlo Assolutamente Perché 26-27 Anni Inizia La piena fase Della maturità agonistica Per un pilota In Formula 1 Per gli atleti sportivi In generale Credo che Leclerc Abbia Forse Un solo Piccolo problema Che dovrebbe Correre un pochino Meno di cuore E un pochino Più di testa Penso a Verstappen Negli anni Precedenti Al primo titolo Dalla metà Del 2018 In poi A fine del 2020 Impara A massimizzare Il risultato Qualunque Questo sia Che sia Un terzo posto Un quarto Un secondo Un quinto Lo massimizza Quasi sempre Fa pochissimi errori in gara E questo lo porta In una mentalità In un mood In cui il risultato Non va sprecato E poi lo fa trovare pronto Quando arriva La grande occasione La grande occasione Del 2021 Io credo che Leclerc Abbia Questo ultimo passo Da fare Che poi la velocità È in dubbia Grazie Matteo Davide Un po' la tua opinione Da pilota È vero che Tutti Tutti hanno Barra abbiamo Perché in generale Nella vita Da imparare Sempre Anche a 40 anni Anche All'onso A 43 anni Ad imparare qualcosa Da qualcuno E questo Guidare in overdrive Molto spesso È una scusa Che non è proprio Che regga tutte le volte Perché Proprio perché Ha esperienza Dovrebbe capirlo da solo O dovrebbe imparare Da science A questo punto Cioè È vero che lui È un super pilota Non si discute Nella maniera più assoluta Ma Pormi nella condizione Di dire Io non ho da imparare Da Hamilton La vedrei Una Una Un porsi in maniera Sbagliata Detto questo È chiaro che lui Comunque dovrebbe Crearsi da solo Max Mi rilaccio a te E quello che dicevi È chiaro che Quando hai la macchina Migliore Diventa tutto Un po' più semplice Però Max Domenica Sabato Anzi Rilacciando quello Che diceva Franco Prima Ha dimostrato Che I campionati Del mondo Che ha vinto Perlomeno gli ultimi due Li ha meritati Al di là della macchina Perché la macchina di sabato La Red Bull Era inferiore alla Ferrari Lui ci ha messo una pezza Quando invece Leclerc Nel contempo Ha fatto un doppio errore Quello dei 5 click Che erano eccessivi Ma è difficile anche Parlare E giudicare A posteriori E quello del guidare In maniera troppo aggressiva È un po' lì Che si vede anche Lo spessore Arrivano da 0 a 100 Sono tutti 98-99 È Max che adesso è 100 E quindi Per riuscire a fare Un ultimo gradino Posso aggiungere una cosa Io ho il dubbio Che se guardiamo La coppia Max Lambiase Piuttosto che Luis Bono E mettiamo Leclerc Con il suo Ingegnere di pista Non ci sia La stessa sintonia Perché a me Verrebbe da dire Lo dico in modo Facile Se mi chiedi 5 click E io penso Che sia esagerato Te lo dico O te lo dico chiaramente O comunque Te ne metto 3 in macchina Perché se stai andando Troppo di là Forse stiamo esagerando Ecco Quel fine tuning Di comunicazione È un altro aspetto Che può essere Metà del pilota Che deve prendere Certe decisioni Perché magari Ci sono Delle indecisioni Nel Definire la macchina No Quindi Lì entriamo poi In un terreno dove Io devo essere sincero Degli audio Di quello che si sente Per radio Mi sono un po' Rotto le scherate Perché c'è una tendenza A far diventare Quello la verità Mentre invece Poi non abbiamo L'interfaccia Per cui arrivi A dire quella cosa In una certa situazione Certo E diventa pericoloso Perché chiaramente Magari non c'è il contesto E sentiamo Il promotore del campionato La cosa che è la sparata Ovviamente la fa sentire Però poi Il come si è arrivati lì Non è spesso Chiaro Che cosa Perché a volte Si raccontano Per coprire un errore A volte Si mandano dei messaggi A volte Una frase criptata E la tendenza Che abbiamo Noi È la verità L'ha detto per radio E quindi È scritto nella legge Non è vero Proprio per niente Così come a volte Le analisi delle telemetrie La macchina va qui La macchina va di là C'è un errore del pilota Non lo conti E conta Nella prestazione Della macchina Quindi Va visto un po' tutto In una visione Un po' più Asettica Rispetto Al numero crudo O alla parola sentita E su quello Secondo me Dobbiamo noi Come categoria Fare qualche riflessione Ok Allora Per chiudere il discorso Ferrari Che tra l'altro Manca poco Per andare in pubblicità Fabrizio Vengo da te Per chiederti Affrontiamo Suzuka Ne parleremo dopo Però potrà essere Comunque Un tracciato Dove ne sapremo di più Anche della monoposto Della Ferrari Suzuka è uno di quei tracciati Dove in genere Si sa Si ha un riferimento specifico Sulle reali prestazioni Di una monoposto Quindi Avremo Secondo me Un buon riferimento Sulle prestazioni Di un po' tutti Francamente Non mi aspetto Come dire Una rivoluzione Rispetto a quello Che abbiamo visto Nelle prime due gare Considererei L'Australia Come un'ottima Performance Ferrari Che deve essere consolidata Però Suzuka È veramente Uno dei banchi di prova Come lo è Barcellona Per esempio Come lo è Silverson Quindi Avremo secondo me Il primo vero test Su quali sono Le reali performance Di un po' tutti i team E Ovviamente I primi due Top team Ma Anche da McLaren Mi aspetto Qualcosa di veramente positivo E allora Matteo Ti lancio la domanda E poi la risposta Dopo la pubblicità Apriamo L'argomento Vabbè di Red Bull Un po' abbiamo già detto Insomma Non c'è tanto da dire Sulla loro gara E Mercedes Mercedes Ancora una volta Deludente Toto Wolf Non ha nascosto La delusione Ma soprattutto La preoccupazione Cioè che quando Sono in galleria del vento Poi in pista I dati Non riescono a trovare vita E a combaciare Quindi ti chiedo Questa macchina Ha solo delle carenze O trovi dei pregi E la possibilità Di migliorarsi Perché mi sembra Un po' la Ferrari Dell'anno scorso Dove non si riusciva A capire dove andare A parare E allora Andiamo in pubblicità Ci vediamo tra poco Abbiamo aperto L'argomento Mercedes Con Matteo Matteo Cosa pensi Di questo monoposto Della situazione Di Mercedes E anche domenica Hanno portato a casa Due zeri Un guasto Per Hamilton E un crash Per Russell Che poi andremo Ad analizzare In funzione Della penalità Inflita da Lonso Matteo Eccoci Permettimi Veronica Un appunto Sempre sul discorso Leclerc Hamilton Prima non volevo dire Che Leclerc Non abbia niente Da imparare Da Hamilton Volevo dire Che non può Per forza Vederlo Come un maestro Che dice Se mi batte Pazienza Rispetto a Come era Fetter Qualche anno fa Solo questo appunto Poi è chiaro Si impara sempre A tutti Come New E osserva La Williams Per dire L'umiltà È alla base Di chi vuole migliorare Detto questo Mercedes Allora Nei numeri Un disastro Perché Il secondo peggior inizio Era quando sono Rientrati Nel 2010 Un doppio Richiro Che arriva A quasi A 6 anni Dall'ultima volta Un doppio Zero Che arriva A 3 anni Dall'ultima volta Questi I numeri Che sono Impietosi Poi Sulle prestazioni Io ancora Non me la sento Di bocciare In via definitiva La nuova Mercedes Di sicuro Però Hanno molto Molto Da lavorare Molto Da controllare Perché Sembra Che Anche questa Macchina Abbia Dei difetti Direi quasi Naturali Per DNA Ripeto È troppo presto Pregare Bocciare In toto Un progetto Comunque molto Nuovo Come quello Mercedes Però ci sono Tante cose Che non vanno Ad esempio A Jedda Hamilton Si è lamentato Le curve Le curve Veloci In Australia Si è lamentato Delle curve Più lente In un turno La macchina Rispondeva bene In un turno No Sono innanzitutto Alle prese Con una macchina Nuovamente Molto Diva Come si dice A finestre Di funzionamento Troppo ristrette Per cui Diventa difficile Sapere Come Lavorarci Sia Da un punto Di vista Rassetto Sia Da un punto Di vista Degli sviluppi Questo Potrebbe essere Del vero dramma Di casa Mercedes Cioè Avere a che fare Con una macchina Che come La Ferrari Dell'anno scorso È troppo sensibile Le condizioni esterne E non sai mai Come mettere le mani Dove mettere le mani Questo È un po' Il quadro Di queste Prime tre gare Credo Abbiano Un po' Di potenzialità Nascoste ancora Come si era visto Un po' In Bahrain Che non stavano Andando Tutto sommato male Lì è stato Più un errore Di scelta Della carrozzeria Troppo Che ha messo Un po' In crisi Il motore Di sicuro Però Tra le prime Cinque A parte Aston È quella Che è Forse messa Peggio Finora Franco Cosa ne pensi Di Mercedes Sono meno Benigno Di quanto Lo sia stato Matteo Io sono Più drastico Ma Normalmente Sono più On off Nei giudizi E mi viene Da dire Che è una Macchina sbagliata Stupisce Che dopo due Errori Di chi abbiamo Spernacchiato Per due stagioni Parlando di macchina Bidone Eccetera Sia arrivata Anche la macchina Di James Ellison E che sia Una macchina A tutti gli effetti Sbagliata La rottura Del motore È dovuta Di nuovo Da pance Troppo chiuse E questo È il segno Di un qualcosa Che nel progetto Non funziona Perché il motore Mercedes Da sempre È L'emblema Dell'affidabilità Uno Lo hanno salvato Come giustamente Diceva Matteo Hanno avuto Un surriscaldamento E hanno dovuto Ridurre La potenza Per finire la gara Qui Lewis Pare che lo abbia cotto Quindi ci troviamo In una condizione Che anche la parte Che funziona Viene messa in crisi Da quella Che non funziona Mi dicono Che ci sono Un po' di screzi Anche al vertice Della squadra La parte tecnica Con la parte gestionale Cominciano a parlare Di un Lewis Hamilton Il bollito Che stiamo dando Alla Ferrari Quindi Un modo Di scaricare Sulle scelte Degli altri Che starebbero Pagando oggi Però Russell Non mi sembra Il pilota Che ha preso in mano La squadra E la fa crescere Mi sembra Il pilota Che gli danno Il materiale E lo sfrutta Al 100% Di quello Che ha a disposizione Lewis Con i suoi sette mondiali Diceva Vabbè Ma se io mi devo Mettere lì Per arrivare Settimo Ottavo Io provo A rivaltare la macchina Proviamo a fare Degli esperimenti Vediamo Se Come diceva Matteo C'è del potenziale Nascosto E proviamo A tirarlo fuori E lì si vedono poi Le grandi differenze Negli equilibri Ti chiedo Gli innesti Di due ingegneri Che dalla Ferrari Andranno in Mercedes Uno è il progettista Simone Resta L'altro È l'ingegnere Enrico Sampo Come si innestano Nel mondo Mercedes Che c'è la percezione Che si è arrivati A raschiare il barile Perché se guardiamo Quanti motoristi L'Audi Ha preso E la Red Bull Hanno preso Per fare i loro motori 26 E se guardiamo Quanti tecnici Mercedes Si sono mossi O si stanno muovendo Il prossimo È Loic Serrat Che diventerà Un po' L'uomo di riferimento Della Ferrari Del prossimo anno Beh Prendere Simone Resta Vuol dire Studia Preparati Arriva al 25 E studia per noi Il nuovo progetto Una nuova linea Di disegno Della macchina Che sarà completamente diversa Per quello che riguarda I regolamenti E affidiamo a te Il nuovo modo Di impostare il lavoro In Mercedes Mi sembra un segnale Lucido Logico E la scelta L'ha fatta James Allison Quindi è consapevole Che intorno a sé C'è un po' Un campo arato Certo E allora A proposito dei piloti Il ritiro di Hamilton L'incidente di Russell È stato investigato Alonso Ma è stato punito Per manovra scorretta Gli è stato dato Un drive-thru Ma la gara era finita Quindi 20 secondi Dalla sesta All'ottava posizione Tre punti sulla patente Corretta la penalità E quanto scorretta È stata la manovra Perché poi lui ha glissato Dicendo Ah ci devono insegnare Anche come guidare È forse molto pericoloso Poi per fortuna Non è successo Niente Russell Allora i piloti Sei anche on off Come Franco È su questa risposta Lo puoi fare I piloti Devono sapere attaccare E devono sapere difendere Nessuno vuole insegnare Alonso Come si guida Ma lui per primo Sa che Difendersi Frenando In anticipo Lo puoi fare In un tratto Che non è A gas aperto In un tratto del genere Dove È l'unica curva Dove abbiamo visto Incidenti Negli ultimi due anni È uscito Albon È uscito Perez due volte Più piloti Sono usciti Perché c'è tanto carico E si schiaccia molto la macchina Nel momento in cui La macchina Viene tolto il gas La macchina S'alleggerisce E in quel tratto lì Perde completamente aderenza E finisce nel muro L'abbiamo visto diverse volte Alonso A fine gara Ha detto Guardate come si fa a difendere Come ho fatto a difendermi Nel 2005 Da Schumacher A Imola Io avrei detto Alonso Vai a riguardarti Come ti sei difeso A Imola Perché io me lo ricordo Mai Facendogli una frenata Dentro una parte veloce Mai Perché è Iper pericoloso Per quanto Mi riguarda Lui sa benissimo La manovra che ha fatto E dove l'ha fatta Per me Il drive through E i tre punti Sono pochi Cosa bisognava Anche perché Crea un precedente Crea un precedente Di una situazione Nella quale Una vettura dietro Lui ha dato quasi Dello stupido a Russell Che è caduto Nel suo tranello Ma non esiste Cioè tu hai fatto Una manovra Che è inaspettata In un punto Molto veloce Russell era anche spaventato Ed è una roba Sì beh Russell era più spaventato Del fatto che era rimasto In mezzo alla pista Inclinato In quello Quello sì Chiamava la bandiera rossa Ma non esiste Una manovra del genere Io mi verrebbe da dire anche Fernando Vatti a guardare Singapore 2023 Che il tuo connazionale Si è difeso Mezza gara Senza fare Una frenata anticipata Semplicemente Rallentando In alcuni tratti Per poi Dove era impossibile Farsi superare Per poi dopo Riaccelerare E riprendere il gap Così Fernando lo sa fare E lo ha fatto tante volte Domenica Ha fatto una cagnata Cosa ne pensi Franco? Ci saranno ripercussioni? Se ne riparlerà Secondo te Tra di loro A Suzuka? Allora La storia È piena Di frenate Maiale Diciamo la cosa Come stanno Ok Io credo Che quando ci sono Questi atteggiamenti Esagerati Non c'è bisogno Di andare a rivedere 14 inquadrature diverse Cioè tu sei giudice Cacci fuori Una bella bandiera nera E fine della trasmissione E poi l'argomento È chiuso Nel senso che Non se ne parla più Lo chiami Da direttore di corsa E gli dici Sei due volte Campione del mondo Hai 43 anni Ok Però Sta roba Siete abituati a farla Sapete quando farle Poi evitiamo di fare Certe cose In certi posti Punto finito Qui invece abbiamo cominciato L'inquadratura di destra Con quella di sinistra Si vede che frena Prima inizia Il recupero di energia Poi frena In maniera bestiale Toglie una marcia È corto E quindi riaccelera Perché poi Se no Ci deve arrivare La curva No Quindi cose Che aprono Uno scenario Io Con Roberto Chinchero Ci lavoro tutti i giorni Lo stimo moltissimo Con il giornalista Ieri abbiamo fatto Un video Lui diceva Forse bisognerebbe Rivedere le regole Ma di che? Di una irregolarità? No Sull'irregolarità Interviene Arbitro fischia Fallo Cioè Finiamola lì Se no Cominciamo un meccanismo Dal quale non usciamo più È come i track limits È come i track limits Cioè un conto è dire Se c'è rischio Pericolo Si interviene Se no Andate dove volete Assolutamente Girate per le montagne Anche perché Un conto è fare un sorpasso iperaggressivo E prendere una macchina Tu quando corri Sai chi hai davanti E ti adegui a chi hai davanti E quindi ti prepari anche a certe situazioni Lui no Però secondo me Sdoganare il fatto Che si possa frenare davanti a un pilota Quando è un punto di accelerazione Secondo me è sbagliato Cioè il concetto è Hai ragione Non solo di Max Verstappen Con Raikkonen Non solo È con Hamilton Nel 2021 A Singapore Lì era da squalificare Per due gran premi Certo Ma infatti il discorso È proprio quello Cioè La tendenza è che però Sui piloti top Non si interviene E la storia è che Se non 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 Poi dopo scateni Tutte le reazioni Che inevitabilmente ci sono Se ci fosse stato Bottas Se andiamo Se andiamo indietro Senna Con Alboreto Alboreto Che gliela rende brutale In Austria Perché dice No nelle piste lente Non vale Te la rendo E lo ha buttato fuori Quindi situazioni Che storiche Schumacher Cioè Ne abbiamo veramente Tantissime E il come tronchi L'idea Che si possa fare Grazie Allora Fabrizio Vengo da te Anche per te Un'opinione E poi ti chiedo anche Due parole Su un Aston Martin Che anche lei Migliorata Che ha la nuova All'interiore E un accenno Vabbè Complimenti All'As Punti importanti E All'accenno Anche Al Tsunoda Pure E la Williams Questo telaio Che non aveva Di scorta E che quindi Ha corso Solo con un pilota Sargiata Ha dovuto dare La sua macchina Ad Albon Cercherò di essere Velocissimo Per quello Che riguarda L'incidente Di Russell E diciamo Il break test Di Alonso Io mi sono andato A guardare I dati telemetrici Effettivamente C'è qualcosa Di clamoroso Lì Cioè Ci sono 35 km Circa In meno Di velocità Si vedono Due pestoni Sul Sul pedale Del freno La marcia Anzi Un pestone In più Rispetto A quello Che doveva Essere Ha scalato Una marcia Poi l'ha rimessa Poi l'ha riscalata Di nuovo Il tutto A suo dire Per caricare Di più la batteria Per essere più veloce Sul rettilineo successivo Che secondo me Dal mio punto di vista Non ha senso Anche perché In quei pochi metri Quanta batteria Puoi caricare È qualcosa Che succede Nell'arco Magari un giro Mezzo giro Allora sì Lo posso capire Per cui La difesa di Alonso La trovo un po' Così Senza senso Per quello Che riguarda Invece Il midfield Certo Approfittando Dell'incidente Di Russell E l'uscita Di Hamilton Si sono praticamente Liberate due posizioni Per la zona punti La Haas Ne ha approfittato E questo fa benissimo Al team Mi ha fatto anche sorridere Vedere Gunther Steiner Che si aggirava nel paddock Ne investe Di intervistatore E Magnussen Che se l'hai trovato lì Come dire Ma tu che ci fai Qua È stato veramente divertente La Williams È scandaloso Che non abbiano Come dire Saputo portare Un telaio di scorta Cosa che in Formula 1 Non vorrebbe succedere E mi pare di capire Che non ce l'avranno Nemmeno in Giappone Quindi Lì Secondo me Andrebbe anche rivisto Qualcosa In termini di gestione Del budget cap Perché Non so se è stato Un ritardo Nella produzione O Chiamiamola così Un'ottimizzazione In vista Del budget cap Franco Sta dicendo di no Fabrizio I soldi Non c'entrano niente Fabrizio Io ho un grande dubbio Che E non ce l'hanno detto Ma in realtà Neanche la squadra Peggiore al mondo E mi viene in mente Non peggiore Con meno soldi A suo tempo La Minardi Non è mai andata A correre Senza Senza La Ticare Io credo Che loro abbiano avuto Un problema Di costruzione Che magari Erano a metà E è successo qualcosa Il telaio è cascato in terra Si è sfasciato Cioè non è logico Il fatto che Con il problema Che è venuto fuori Non solo Non l'avranno In Giappone Ma non l'avranno Nemmeno in Cina Quindi lo vedremo A Imola Ecco Riparano questo Riparano questo Che si è incidentato E vengono a correre Con quello incidentato Spero che quello incidentato Lo diano ad Albo Però Che lo diano a chi l'ha rotto No? Il numero uno È stato Max Quando lei ha intervistato Io ero già in aereo E tornavo a casa No, no Lui ha detto Guarda Se l'avessero fatto a me Piantavo nel muro L'altra macchina E così eravamo a posto Molto sportivamente Numero uno Fabrizio Dovevi finire? No Sostanzialmente finito Per dire Comunque Che ecco Williams Secondo me Ha qualche Qualche problema in più Da Interno Da gestire In ambito Amministrativo Gestionale Chiamiamolo così Ecco La scelta di dare Il telaio Buono ad Albon La domanda che mi sono fatto è È giusto Sportivamente parlando? No Assolutamente no È giusto dal punto di vista Del team? Sì Perché poi Se andiamo a fare Una statistica Su chi ha portato i punti Evidentemente Albon che li ha portati E sappiamo benissimo Quanto Anche un solo punto Può significare In termini economici Per il team Certo Matteo Se vuoi aggiungere qualcosa Anche guardando un po' Alla crescita Che ha avuto Aston In questo Gran Premio In Australia Sì Aston È cresciuta però È cresciuta molto anche Racing Bulls Perché Tsunoda è arrivato A un paio di secondi Da stroll Quindi forse Mi ha colpito di più La Racing Bulls Con Tsunoda Perché Ricciardo Invece è finito Molto dietro Piuttosto che La sesta Aston Martin Che tutto sommato Al di là dei pezzi nuovi Ha fatto più o meno Quello che ci si poteva aspettare Almeno a me non è Che abbia colpito In maniera clamorosa Dopo le ultime gare È Tsunoda Che mi ha colpito Ha fatto Un gran risultato Una grande gara Sì sì Assolutamente Se vuoi aggiungere qualcosa Anche tu Su Williams Sì Su Williams Sul Sì Williams Molto molto grave Che non ci fosse Un telaio di riserva Indipendentemente Dai motivi Però Io non ricordo L'ultima volta Che una macchina Non ha corso Perché mancava un telaio Quindi Mi dispiace Anche per Vols Che mi stava piacendo Questo però Un errore grave La manovra di Alonso Manovra di Alonso Un conto è La malizia Un conto è La bastardata Passatemi il termine Quindi io sono d'accordo Con la penalità Perché Guardando appunto La telemetria È troppo grave Quello che fa Due pestoni sul freno Decelera troppo Però anche Che Russell Secondo me Non è stato Troppo sveglio Tra virgolette Forse anche lui Insomma Qualcosa di più Lo poteva fare Questo però Non giustifica Non ciò ne va Non ciò dalle responsabilità Assolutamente Grazie Matteo Ti avevo chiesto Secondo te Se a Suzuka Ne riparleranno Sì 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 Ne riparleranno sicuro Perché sarà un tema È quello che è stato scritto Nel dispositivo Bastava scrivere Maialata Maialata Punto Finito Poi gli dai 20 secondi Tre Cioè Quello che è Invece si è entrati Nel merito del carica Ricarica I 35 chilometri La frenata La scalata E lì diventa E lì diventa poi Un mondo Dove un bravo ingegnere Associato a canto Con un buon avvocato Ti inventano Tutta un'altra storia Quindi Quello è il rischio C'è un aspetto Che dobbiamo Mettere in evidenza Gli amici hanno giustamente Messo in evidenza La straordinaria gara Di Tsunoda E ti ricordo Cosa è successo In Bahrain Quando dicemmo Attenzione Quella incazzatura Di Tsunoda Con Ricciardo Era solo per Definire Chi doveva essere Il leader Della squadra E oggi A distanza Di tre gare Giocate Combattute Mi sembra molto chiaro Ma è anche Altrettanto chiaro Che il sistema Red Bull Ha ucciso Ricciardo Per la seconda volta Perché Lo hanno richiamato Durante l'inverno Gli hanno fatto capire Che siccome Il test che aveva fatto Era stato straordinario Era l'uomo Destinato A salire Al posto Di Perez Da quando è scoppiata La guerra civile Dentro il mondo Di Milton Keynes L'unico nome Che non si è più sentito Come eventuale nome In Red Bull È stato Quello di Ricciardo Lui Ne è consapevole Dall'inizio della stagione C'era chi diceva Addirittura Che potesse Non cominciare La stagione In rottura E quindi Mentre Sainz L'ha presa Come diceva Davide Nella chiave positiva Dando valore All'uscita Io credo che Daniel si è proprio sentito Disintegrato E ora È un mezzo pilota E allora Abbiamo detto che S'andrà in Giappone Fra due settimane Quindi c'è una settimana Di sosta Intanto andiamo a vedere La scelta di Pirelli Che per questo tipo Di tracciato Ha scelto le mescole Più dure Quindi sarà La hard Sarà la C1 Eccole qui La media La C2 E la soft La C3 E per quanto riguarda Il tracciato Un tracciato che ha rinnovato Fino al 2029 E un tracciato tecnico Molto veloce Fatto per piloti Estremamente coraggiosi Ma che ha sempre dato Grande spettacolo Di solito Si correva a Suzuka A settembre E spesso Qui si sono assegnati Dei titoli mondiali Come ad esempio L'anno scorso Con la vittoria Di Max Verstappen Ha regalato Il titolo Costruttori Alla Red Bull Davide Andiamo a vedere Quali sono Le caratteristiche Di questo tracciato Una delle più belle Piste del mondo In assoluto Ha dei tratti Soprattutto i cambi veloci Del serpentone Dopo le prime due curve Paurosi Ma anche giù Dalla discesa Prima del tornante La curva subito dopo La curva La 90 gradi Prima della chicane finale Una delle piste Più belle del mondo Una delle piste Più tecniche Per la macchina Quindi una macchina Che va forte A Suzuka Va forte dappertutto Una macchina Che ha problemi A Suzuka Durante la stagione Potrebbe avere problemi E ricordiamoci anche Che a Suzuka Spesso piove Quindi Le gomme di Pirelli Sono quelle più dure Che vuol dire Che forse Ci sarà meno Graining Che in Australia Forse un pelo Più verso Red Bull Però In Giappone A Suzuka Piove molto spesso E quando piove A Suzuka Piove Non vengono Quattro gocce Quindi Le gare magari A volte Vengono anche Un pochino Stravolte Nel risultato finale Certo E udite udite Non avete azzeccato Il pronostico Dell'Australia Per la prima volta Siete andati Così Nella comfort zone E non ci avete preso In realtà Io non li ho mai presi Negli ultimi 43 Però Dando vincente Verstappen Speravo almeno Di prendere il primo No neanche E invece neanche quello Allora partiamo Davide Parti tu Verstappen Visto che Ho sbagliato La volta scorsa No Io mi aspetto Una Ferrari Più vicina Molto più vicina A Max Non mi aspetto Un gap Tanto più ampio Mi aspetto Max Non la Red Bull Ancora veloce Ma con la Ferrari Molto vicina Quindi Mi verrebbe da dire Verstappen Leclerc Sainz Poi non si sa mai E poi non si sa mai Matteo Sì allora Innanzitutto Sono molto contento Che si corra a Suzuka Mi piaceva più A settembre Ottobre Per me è la pista Più bella Del campionato Crescendo L'ho apprezzato Anche più di Spa Per quanto riguarda Il pronostico Sono un po' In difficoltà Allora metto Verstappen Davanti Perché ora Che perda due gare Di fila Mi farei troppo Dai Quindi metto Quindi metto Verstappen Per il podio Mi aspetto Una bella battaglia Perché anche McLaren Io non la sottobiterei Ferrari con questo tipo di macchina Dovrebbe essere Molto buona Suzuki Perché chissà Magari un podio Con tre squadiere diverse Vediamo Verstappen Una Ferrari Una McLaren Vediamo Fabrizio Mi ha anticipato Matteo Perché stavo Per fare Esattamente Lo stesso pronostico Verstappen Andiamo sul sicuro Anche se poi Mi aspetto Una Ferrari Più vicina Come dice qualcuno Non succede Ma se succede Poi diventa Veramente interessante La Formula 1 Però Sul terzo gradino Quindi Verstappen Leclerc Sul terzo gradino Io Vorrei vedere Piastri Piastri Non mi Franco Tocca a te Non dire solo Il secondo Come hai fatto La volta scorsa Tu hai detto Solo il secondo È vero Fai così Anche sto giro Però non sono andato Lontano Non sei andato Lontano Attenzione Cioè ci hai preso Perché avevi detto Secondo Leclerc Quindi ok No No? Sì No io seguo Il discorso di Fabrizio Credo in una McLaren Molto forte Soprattutto nello Snake Mi piace l'idea Che Piastri Faccia vedere Che È il fenomeno Che ancora un po' Si è nascosto È incompiuto Ancora Quindi sulla pista Difficile Mi aspetto Che si inventi qualcosa E poi Se dobbiamo sbagliarci Sbagliamoci per la seconda volta Assolutamente Siamo arrivati alla fine Vendo Perez Tutti che hanno una grande fiducia In Perez Ci stupirà E allora grazie a tutti Grazie a Matteo Novembrini A Fabrizio Monaco Davide Amaduzzi Franco Lugnes Grazie a tutti voi Di averci seguito Ci vediamo tra due Martedì Buona serata da Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.